Eccolo! Eccolo! Eccolo, eccolo! 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 E' lei, lei, questo e questo, questo abitato! E' lui! John! John! Pete! Look this way! Daenerys is here for you! Can you come here, please? I came from Dragonstone to see you, please! Just one! And this is for you! Attenzione! Dietro! 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 And this is for you! From me! And this is for you! Thank you! So prova! That's quickly! I'm really sorry! How was his involved? grazie 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 he anche yeah thank you so much for having me of course the people with it the warmth of the people we're now up to come from the cold of the north a lot è stato un po' di più, sai cosa? a volte puoi fare commerciali o... puoi fare la parte più corporativa del lavoro e è una esperienza perché senti che stai vendendo e ti senti a perdere e pensi, ah, ho deciso di aver fatto senti che sia pagato guarda, a volte è difficile nel senso che quando ti trovi dovevi girare uno spot pensi sempre che tu possa, ma in realtà è così ti stai vendendo un po' la tua anima al diavolo per cui non sempre ti lascia delle buone impressioni è difficile, nel senso che quando ti trovi dovevi girare uno spot, pensi sempre che tu possa ma in realtà è così, ti stai vendendo un po' la tua anima al diavolo per cui non sempre ti lascia delle buone impressioni fare una cosa di questo genere però il lavoro è la parte, come direi tutta del lavoro ma in Napoli they made me forget about Mesa like my soul ma Napoli mi hanno fatto dimenticare nel fatto che sentire le mani la roba il cilindro se sei se sei funzionato per essere il attore e il televisione come 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 che è qualcosa che non ti sono entro e non necessariamente desideri ovviamente ho sempre pensato ce ne pensano un pronuncio ovviamente Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.